oh oh mamma mia mamma mia mamma mia tutti si buchi oh orca puttana per cazzo però si però dai io mi ritorna dentro e mezzo di gambe questa palla cioè mamma mia che sei mangiato questo da barack questo è il terzo ruolo che si mangia ma come ha fatto l'insegnato? ma non mi ha dato la porta mamma mia mamma c'è, regà no non è possibile questo si è mangiato un po' più clavoroso di quello di prima sempre in barack si vabbè non ti riazioniamo c'è uno che aveva solo segnato in carriera cioè noi ce n'è ancora un po' più clavoroso sembravo insieme a un po' più clavoroso no vabbè ce l'avevamo fatta sì per forza dopo cinque tentative dai regà ma non stiamo a fare niente questo segna solo uno questo cazzo di zanzano chi è che è scivolato uno ma che squadra hai? ma sono qua la squadra è merda guarda sopra c'è Felipe Anderson da solo che cazzo sta a fare? ma che cazzo fa io? Felipe Anderson tutto solo non si sa che voleva fare questo con Giuda guarda che cazzo ha fatto no io non ce la faccio non ce la faccio mamma mia io non ce la faccio che cazzo ha fatto questo? perché questo io non ce la faccio guarda io veramente non capisco Isai io non me la faccio come sia possibile che questo è titolare? ma io non capisco ma questi guarda tutti i suoi ma tutti i suoi e Manu si dice Lazzari cioè hai capito? ce l'hai buoni in giocatore che Lazzari per quanto potrà giocare male difesa quattro? ma ma essere peggio da questo almeno in attacco è forte capito Isai ma non sai dicevo però spinne, gioca è pure una pippa al sugo in avanti mamma mia ma che cazzo? ma che cazzo? vabbè vabbè regà mamma mia guarda guarda non ce la faccio non ce la posso fare vai a scrivere Sarri vai scrivi proprio scrivi proprio guarda è veramente assurdo è veramente assurdo è così doppietta da Simeone capito? questo ha fatto un indio del merda proprio si come sempre come sempre perché non gliela farsa la palla capito? poi tutto solo tutto solo cioè c'è avuto il tempo di sopparla male perché si è importata avanti e comunque c'è avuto il tempo del mondo per tirare guarda che stop ha fatto ovviamente sono in attacco perché Reina ha sbagliato l'invio e l'ha dato a loro dai che buona dai che buona dai fanno muo si si bravo Ciro ma che ne so stava bene sentivo niente e non è ancora cominciata dai Ciro dai Ciro bravo Ciro dai che buona fallo muo perché mi chiede che stavano fuori gioco qui c'era quello la eccolo hanno detto che che stai sono arrivato subito il secondo tempo vedi come stava a basso? si si che il secondo tempo piano go fate le cazzate eh mamma mia oh e dai insomma che è solo regno è passata proprio eh mamma mia mamma mia mamma mia bastarda l'ho presa oh t'ha sciso guarda quanto sangue c'ha se chiudete l'ora le magna non la perde si è fermata devo mettere di nuovo l'intensità dai dai oh vabbè 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 ma l'ha presa per il culo ma questi non difendono non sanno manco che vuol Dio non sanno manco che vuol Dio non difendono questo fa il fatto di cosa stagione c'è questo ci fa tripletta a Simeone tripletta a Simeone non è possibile non è possibile non è possibile mamma mia ma che scherzo ma che scherzo non è possibile ma che cazzo è due su due o non è possibile come è possibile che è una squadra per il difensore della latte che è fatta bene che è due occasioni allucinanti dai quattro gol da Simeone ma come cazzo si fa? ma che cazzo si fa? un gioco senza difesa non vedo come